Crescono gli utili nel 2010, saliti a un milione e mezzo di euro, migliorano i servizi e aumentano i mezzi a disposizione. Numeri importanti per l'AMIUSPA, l'azienda municipale per l'igiene urbana, che a Bari ha presentato il bilancio dello scorso anno. Tre in particolare le chiavi del successo. Intanto la dotazione impiantistica di cui si è dotato non solo AMIUS ma la città di Bari, l'impianto di biostabilizzazione, l'impianto di tritovagliatura, il rinnovamento del parco mezzi, il nuovo modello di tutto il servizio di spazzamento che passerà e che diverrà esecutivo fra qualche settimana, il potenziamento della raccolta differenziata, l'estensione del porta a porta. Molto è stato fatto ma molto c'è ancora da fare, ha spiegato il presidente Giuseppe Savino, a cominciare dalla raccolta differenziata e dal porta a porta, che deve avvicinarsi sempre più agli standard previsti. C'è bisogno che anche la regione, che pure ci sostiene in questa azione, metta a disposizione le risorse necessarie per ulteriormente sviluppare il sistema di raccolta intensiva del porta a porta. Tra le novità le nuove macchine spazzatrici con agevolatore, che garantiranno il lavaggio delle strade e dei marciapiede anche in presenza di auto, e il potenziamento dell'iniziativa Bari Pulita, che a regime diventerà bimestrale. Nel futuro dell'AMIU però ci sono importanti obiettivi strategici.